ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft siamo nel sesto episodio della hello craft allora nello scorso episodio abbiamo trovato un villaggio abbiamo sconfitto un raid perché abbiamo fatto più un altro villaggio poi basta e lì c'è una cosa bruttissima che non voglio vedere mai più comunque adesso continuiamo l'esplorazione e poi nel prossimo episodio torniamo a casa lista del ferro problema io mi sto rimpiangendo tantissimo è un enderman era un enderman era un enderman mannaccia non vediamolo gli sto rimpiangendo tantissimo le torce ma non è possibile che caldo sembra mannaccialo a me mi servirebbero molto delle torce ma non c'ho nessuna torce il problema che non c'ho manco del carbone dicevo perché non te lo prendi magari qualcosa no mi sconcio non voglio non ho voglio però però un cacchio però abbiamo trovato non è non è no no non è il villaggio che abbiamo già visitato perché questo io non ho mai visto quello che è un cosa del nether perché non c'è blocco sopra dovrebbe esserci a si ci sta che culo la cassa oh buona roba butto questo 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 che devo buttare qui questo allora questa è buona ma prendo lo stesso questa qua è buona pure me la prendo per prendo questo oppure questo oppure questo oppure questo i blocchi di oro tutto sommato non è che mi servono poi a cosa ce ne ho tantissimi non mi servono a tanto che comunque ce n'è un botto vediamo nel villaggio però mi sono stancato di trovare solo villa cioè sono tre episodi in cui io trovo villaggi villaggi villa però di cosa buona veramente l'ho trovato solo in un in un villaggio però io continuo a trovare villaggi ma mi scocci trova sempre villaggi villaggi villa cioè trovo qualcosa di più buono magari le manzi orti queste cose qua ma sti villaggi ma ce n'ho rotto pure le palle magari c'è qualcosa di buono qua che mi fa ricredere fammi vedere speriamo aspettate e beh 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 rimangio tutto quello che ho detto rimangio tutto quello che ho detto però non mi serve più nulla due diamanti buono io mi pare che ci avevo anche un terzo diamante a casa se mai tornerò a casa ciao aiuto 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 se trovo un'altra casa del fabbro ti dirò sto a posto però non credo che ce ne sia un'altra non credo che ci sono queste case qua ma non c'è un'altra casa del fabbro quindi posso pure andarmene io a sto punto mi ritengo mastro dei villaggi ce ne ha trovato un altro ma come cazzo è possibile perché io trovo qualsiasi cosa tranne le cose buone cioè il villaggio è buono però mi sono rotto le palle c'è trovate miliardi di villaggi miliardi che poi qua dentro puoi vedere che non ci sta manco la casa del fabbro poi faccio vedere cazzo che cazzo ma che cazzo sei che cazzo ma non aggiunto mo che mi chiede sta cosa cosa faresti tu boh cose strane accadono in questi villaggi un'altra cassa vabbè è buono però le cose buone puoi trovarle solo nelle casse del fabbro e qua il fabbro non ci sta allora a sto punto io mi sono rotto i coglioni perché c'è allora posso io trovare sempre le stesse cose no vabbè l'ossidiano questo non è buono questa roba qua vabbè io me la prendo ma prende però ne che mi serve poi a così tanto a questo punto quanti blocchi di ossidiana io ho tre blocchi di ossidiana se me ne prendo un altro allora a casa ce ne ho due quattro cinque con questo qua sei nell'altra cassa ce ne ho altra quindi ce la faccio a farmi un coso mi prendo pure il blocco questo qua se mi riesco a prenderlo l'ho preso sì andiamo qua a trovare qualcosa di buono no non schifo non schifo però di diamanti ma ci ma mi fate trovare tantissimi villaggi ok fatemi trovare diamanti che cosa me ne faccio di queste cose poi diamanti non ci stanno ok smeraldi vabbè tanti smeraldi va bene ci sta mi piacciono gli smeraldi però propri cioè diamanti cose buone non schifo ok va bene va bene non è buonissimo basti quanti villaggi devo trovare ma non amichi quanti 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 una maledizione ciao a tutti quanti allora io io faccio una cosa subito faccio oppa no aspetta un attimo così o no così va bene o tutto così aspetta ok va bene ok ok va bene tutto ok non va andate a cagare non siete buono sarebita nulla fate schifo fate cacare no maronna mia porca scappa dove cazzo vado dove cazzo vado ma nonno no 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 ba nonna mia daiake se mi sta sparando il sedere qui dentro altra roba vediamo no qua non c'è niente Ah oh No ma sei tu con loro Ma va a cagare Ma quante frecce Mi devo far vedere Perché mi devo far vedere No Mi devo far vedere Mi fanno trovare sempre le stesse cose Ma che fanno schifo Guarda non c'è nulla Vabbè buono Diciamo Ah Mi è esploso un creeper dietro Niente Questo qua sta trombando Sto facendo incredibile Che cazzo vuoi tu Andiamo qua dentro Una cassa Cosa c'è nella cassa Dei smeraldi Come sempre Va bene Cazzo guardi Se io sto vicino casa Devo solo seguire La freccia E devo andare tutto dritto Perché casa mia Sta Proprio nella spaccata Da montagna quella là Quindi devo andare tutto dritto Tutto per di qua Allora Io penso Cioè Sto ancora lontano Però ho trovato un altro villaggio Non voglio dire più nulla Cioè sto camminando Da tipo mezz'ora Non ho trovato ancora una minchia Cioè Credo di essere Quasi Arrivato a casa Spero Aspetta Se c'è Se c'è Uno stivale Una sola cosa No Vuol dire che magari Ci sono già passato Forse Tutto Aspetta Se non trovo nulla Alla dentro Cioè in questa prossima casa Vuol dire Che sono vicino casa Vediamo Può darsi Forse 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 sono vicino casa Aspetta un attimo Se vado dritto Vado a sicuro che ci sono riuscito Dovrei Ma eccola qua Ce l'ho fatta Però Non dobbiamo ancora gioire Perché Tutta quella roba Che ho messo nelle casse Vabbè Com'è bella casa mia Guarda Com'è bella Guarda quanta ricchezza Tutta quella roba Che ho messo nelle casse In quel villaggio Dobbiamo tornare indietro E prenderle Però non lo facciamo adesso Lo mettiamo qua così Giusto per Uno due tre Aspetta eh Che Non voglio Non ho troppi blocchi Così Uno Uno due tre Uno due Sono scemo Aspetta eh Due tre Uno Manca questo qua di sotto Aspetta un attimo Completo Allora Col portale del nether dietro Spero che questo video vi sia piaciuto Se così fosse uscito un bel like Iscrivete al canale Ho speso un botto di tempo Per fare questo video Ma non fa niente È bellissimo Forse non lo so Di nuovo Spero che il video vi sia piaciuto Se così fosse uscito un bel like Iscrivete al canale No ci vediamo al prossimo video E nulla Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti.